Ben ritrovati dalla redazione di Florens Multimedia in studio Cesare Martignoni. La strada statale 330 è chiusa in località al Viano Magra, nel comune di Aula, Massa Carrara, in seguito al crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Infipili per lavori di messa in sicurezza del viadotto del Turbone, code a tratti tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Nel raccordo autostradale Siena-Firenze in direzione Firenze, scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze in Pluneta. A Pistoia per lavori di ripristino strutturale al viadotto sul torrente Ombroni, località capostrada, chiusa la bretella di collegamento tra la strada regionale 66 Pistoiese e la statale 716 raccordo di Pistoia. Nel raccordo Bettolle-Perugia fino al 2 giugno per lavori nei pressi dello svincolo di Petraia, scambio di carreggiata e chiusura dello svincolo in direzione Perugia. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!